Bentornati su MyFootballJersey. Vi mostro oggi una maglia fantastica, questa ovviamente è la maglia retro del Manchester United per la stagione 94-95, la seconda maglia, la maglia di Eric Cantona. Grazie per la visione! Maglia fantastica di un giocatore indimenticabile, io ricordo ancora lo spot della Nike dove lui era protagonista. Qui in alto vedete il costo, beh strepitoso anche questo, decidete voi cosa fare. Vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere uno sconto, un coupon di 3 dollari, quindi il costo diventa ancora più basso. Prima di lasciarvi la parte finale mi raccomando iscrivetevi al canale, a voi non costa nulla ma ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FUN! 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 FUN!